Buonasera appassionati di motorsport, questa sera a Safe Drive parleremo di un campionato internazionale dedicato alle berline con oltre 400 cavalli e mi riferisco all'International Superstar Series. Abbiamo due protagonisti, due protagonisti del team BMW, alla mia destra Mauro Trentin. Ciao, buonasera a tutti. È un piacere ritrovare i nostri studi Mauro, era già venuto all'inizio del campionato e chiederemo come sta andando appunto quest'anno e ricordiamo vincitore trofeo Peugeot l'anno scorso in pista e invece un debutto qui nei nostri studi per Giovanni Berton. Ciao Giovanni. Ciao, buonasera a tutti. Io comincerei, se mi lasci Mauro, proprio con Giovanni perché Giovanni stavo guardando la classifica a due gare dal termine o meglio a due appuntamenti, quattro gare dal termine. Tra l'altro in Italia ritorniamo a correre nella nostra penisola Imola e Vallelunga. Giovanni, vedo, terza posizione assoluta, ancora in lotta per il campionato, primo tra il BMW e anche con un paio di vittorie. All'attivo. Stiamo andando molto molto bene, abbiamo ancora due gare molto importanti per noi, finalmente siamo tornati in Italia e quindi vediamo di puntare a fare al massimo a casa nostra e cercare di puntare a casa questo titolo anche se sarà molto difficile. Il campionato internazionale ha tutti gli effetti perché vi abbiamo visto inizio stagione a Monza, poi siete andati un po' in giro per l'Europa e non solo. Per te un debutto in questa serie e probabilmente anche di circuiti nuovi da scoprire. Sì, sicuro. Quest'anno abbiamo fatto parecchi circuiti all'estero, non lo conoscevo neanche uno, a parte Bernou, quindi per me è stata più dura rispetto agli altri a imparare un po' all'inizio delle piste. Quindi è un campionato molto internazionale, è bello così per tutto, per gli sponsor, per i media. E quindi adesso andiamo su delle piste che finalmente conosco, quindi non dovrei avere meno problemi. Anche nel tuo caso, Mauro, un debutto assoluto, tante piste quasi tutte nuove se non quelle italiane e poi c'è la novità di una trazione terriore. Tu arrivi e hai fatto anche del GT, però era un anno che non salivi più su queste vetture. Adesso ti vedo in buona ottava posizione, una serie di punti, tanta regolarità nella tua stagione, direi un bilancio positivo. Sì, un bilancio positivo sicuramente. Ci ho messo un pochino a trovare il bandolo della Matassa, perché è una macchina che comunque va più veloce, bisognava riprendere un po' l'attitudine alla velocità. Piste nuove da imparare, quindi diciamo che è stato messo come anno di rodaggio, in qualche forma. Sicuramente all'inizio dell'anno ero un po' più spaventato, poi il primo approccio è stato positivo, mi ha dato una mano. Adesso stiamo un filino regredendo, perché per ovvi limiti di budget il chilometraggio manca e quindi anche il feeling è un po' più difficile. Anche perché nel variegato panorama di team del superstar ci sono dei team più o meno ufficiali, dei team invece privati con delle vetture magari non dell'ultimissima generazione. Si sente un po' questa disparità? Sì, ci sono dei team di fascia alta e di fascia meno alta, per non fare torti a nessuno. Diciamo che il ruolo principale l'ha giocato il balance fino adesso. Il nostro team non ha l'ufficialità, ma è comunque il riferimento per quanto riguarda BMW. Purtroppo il balance ha favorito un po' meno la nostra vettura rispetto a quelle degli altri. Giovanni, per un formulista come te, che ha iniziato la carriera con grandi risultati con le ruote scoperte, com'è guidare una vettura che ricordo per i nostri telespettatori ha sì tanti cavalli, però è concettualmente una vettura molto vicina alla serie. Dunque pesi, baricentro alto, un cambio che ha dei limiti e una trazione particolare. Sicuro, ho detto bene. Infatti è una macchina abbastanza diversa da un monoposto, la categoria massima ovviamente è la monoposto. Il baricentro è più alto, c'è più peso, trazione è diversa ovviamente dalla monoposto. Quindi la trovo un po' più facile rispetto a un altro che magari è già salito per la prima volta su GT e basta, non ha provato altre o comunque altre macchine di turismo. Quindi per me che sono arrivato su una macchina o a categorie che vanno abbastanza forti come le monoposto, arrivare a provare una macchina di turismo GT all'inizio ha un po' meno difficoltà rispetto agli altri. Quindi riesci ad andare qualcosina in più e a sfruttarla di più. Poi penso, presumo io, anche un po' di malizia perché con le formule non ci si può appoggiare, perché ci si incastra. Mentre con il turismo ho visto delle gare in televisione, c'è molta bagarra, ci sono molti, chiamiamoli colpi bassi, ma parte un po' dello spettacolo. Eh, certo, è vero. Infatti con queste macchine qua purtroppo ci si può permettere di arrivare in certi momenti, in situazioni che si danno sportellate o si ricevono, a volte un po' ovviamente involontarie, però a volte anche mari volontarie. Chi è il più ossico, il più difficile? Quando lo raggiungi o quando ti raggiungi e dici adesso sarà dura con lui? Beh, quest'anno sicuramente era Larini con la Jaguar, perché lui è sempre un po' così, diciamo, tra virgolette, scorbutico, chiamiamolo così. Però comunque, insomma, sempre nei limiti tutto sommato ci può stare. Ricordiamo Andrea Larini. Mauro sorride perché probabilmente anche lui ha qualche segno della sua Jaguar sulle tue fiancate. Sorrido perché i segni non mancano mai e in quanto a timidezza direi che anche se arriva dal monoposto Giovanni non si fa mancare nulla perché domenica guardavamo una foto dello start di gara 2 a Donington, tutte le auto ben composte in due file, una unica macchina sull'erba ed era lui che cercava di passare l'Audi. Senti, mi agganzo a questa situazione tecnica, dici prima del balance, vetture con motore anteriore, vetture a quattro porte, a due porte, trazione integrable, trazione posteriore. La vostra vettura è andata molto bene dove c'è guidato, tanto telaio, un po' come viene nel GT con la Z4, manca un po' di cavalli. Adesso c'è Vallelunga e Imola. Come sono queste due piste per la vostra M3? Per la nostra M3 potrebbero non essere completamente sfavorevoli, nel senso che dovremmo riuscire a mettere una pezza anche se dobbiamo confidare per forza di cose nel meteo, perché se dovesse esserci una situazione di pioggia o di pista umida con la trazione integrale l'Audi diventerebbe imprendibile. Imola ha un paio di rettilinei in salita che favoriscono sicuramente Mercedes, che ha tanto motore. Noi sul guidato dovremmo difenderci. Tanto guardavo un campionato veramente molto combattuto, perché dopo sei weekend e dodici gare, tra il leader, ma sarebbe meglio utilizzare il plurale, tra Thomas Biagi, Mercedes e Gianni Morbidelli, Audi, Lego, 173 punti entrambi, poi arriva Giovanni a 136. Come viene visto la carovana multicolore della Superstar nelle gare all'estero? Andate in posti che ogni tanto invidio. C'è un grande seguito, perché in Italia c'è da dire la verità, che il vostro campionato è uno dei pochi campionati che dove è arrivato ha portato tanto pubblico sulle tribune. All'estero come siete visti? Ma è visto molto bene, nel senso che anche all'estero c'è tantissimo pubblico. Poi come anche in Italia ci sono tanti appassionati anche all'estero. L'unico punto debole è stato a Portimao, che c'era molto meno pubblico rispetto alle altre piste. Forse secondo me è dovuto un po' che era vicino al posto di mare, sei turismo, quindi tanta gente, poi periodo di ferie tra luglio e agosto, quindi tanta gente magari andava al mare o anche tanti turisti. Vada come vada, indubbiamente noi ti auguriamo un grande successo. Stai già pensando a quello che potrà essere il tuo futuro nel 2014? Sì, io vorrei restare ancora nell'ambito Superstar, perché è uno dei campionati attualmente più in voga e più importanti da tutti i punti di vista, sia della spettacolarità che dai mezzi, dai piloti, dai team. Quindi vorrei restare in questo campionato. Possibilmente con questa squadra, poi sai, si valutano tante altre proposte o comunque tanti fattori, però mi piacerebbe restare qui e vediamo di puntare. Si arriva uno con un bel ingaggio, perché dire di no, valutiamolo. Mauro, dopo un anno di esperienza bisogna cercare di riprovarci, di riescerci, penso, nell'anno prossimo, perché ormai hai le idee più chiare su quello che è il campionato. Sì, sicuramente dopo un anno di lavoro bisogna anche concretizzare in qualche modo, per cui l'idea, il programma è quello di ripetersi, di rimanere nel campionato Superstar. Siamo in un periodo in cui bisogna tenere la bocca chiusa e le orecchie aperte e poi vedremo da qui ad aprile sicuramente qualcosa succede. Senti, c'è già qualche idea su quello che sarà la linea guida del campionato, sia a livello di regolamento sportivo e tecnico, lo stesso calendario? C'è qualche idea? So che il calendario è al vaglio in questo periodo. Noi abbiamo consigliato, in mezzo alle tante trasferte europee, di inserire comunque una data italiana a metà stagione, a metà calendario, che è una cosa che quest'anno è un po' mancata. E a livello di lunghezza delle gare, di punteggio, quello è un mix corretto? Tu faresti delle gare magari un po' più lunghe, eventualmente anche con due piloti, non lo so. Forse la gara un po' più lunga per il pilota non sarebbe male, però mal si sposa con il prodotto televisivo e con il coinvolgimento del pubblico, quindi diciamo che il format è quello ideale, è quello corretto. Io concludo in questa fase del campionato con tutti i graditi ospiti, indubbiamente facendo un grosso in bocca al lupo per la tua rimonta e chissà, per puntare a un podio quanto prima Mauro, divertitevi, fatevi divertire. Voi appassionati, oltre che poterlo seguire in televisione, l'International Superstar Series, gli appuntamenti sono tra poche settimane a Imola e a Vallelunga, dunque l'opportunità per andare a vedere queste fantastiche vetture. Grazie ancora e voi telespettatori rimanete con noi perché voltiamo pagine ed entriamo nella sezione Racing Time.